di nuovo qui con la cucina giapponese oggi prepariamo tamago yaki che sarebbe l'omalette giapponese allora occorrono le uova lo zucchero il dashi che sarebbe brodo di pesce poi un po di salsa di soia e un po un goccio di mirin a questo punto si amalgama tutto e poi si cuoce in una padella ben calda quando la padella è ben calda si mette un po di composto e si fa una prima omelette fatto il primo rotolo fatto il rotolo si aggiunge altro composto cercando di farlo aderire bene anche sotto così si lascia cuocere poi si arrotola fin quando tutti gli ingredienti si amalgamano ecco qui l'omelette è pronta vedete un rotolo di frittata poi non rimane altro che impiattarla oppure tagliarla e metterla nel ramen